Longhorn, coreografia di 64 counts, due muri, un tag e un finale. Iniziamo a vedere i passi. Iniziamo con il verso facciamo un kickball cross, kickball cross, chassé a destra, rock back di sinistro, rock recover, to start turn di sinistro girando di un quarto verso destra, to start turn. Giro completamente di tre quarti verso destra per tornare sul primo muro, step di destra, scala di sinistro, grab back a sinistra che gira di un quarto a sinistra. Andiamo con il giro dietro, giro un quarto e stop avanti di destra. Sweeper con tutti i due tacchi verso destra, pausa. Sweeper con tutti i due tacchi verso sinistra, pausa. Due heel di destra, heel, heel, poi di sinistro, poi. Girandomi di un quarto a sinistra faccio un point di destra, poi. Line, di nuovo un heel di sinistra, heel, hitch di destra, hitch, step in avanti di destra e di sinistra, step, step. Stride di destra girandomi di un quarto verso sinistra, quindi passo lungo di destra, slide di sinistra, stomp, up, un po' più avanti del destro, stomp, in cross. Slap, slap, mano a destra, attacco a destra, slap, stomp, quindi pedo sul destro, vaudeville verso destra, quindi di sinistra, vaudeville che gira di un quarto verso sinistra. Toe straight turn, di destra, di mezzo, toe straight turn, rock back di sinistro, rock, recover. Due kick di sinistro, kick, kick. Un kick di destra, kick, un kick di sinistro, kick. Flick, destro, stomp, un po' più avanti. Il fan destro, il fan, il peso rimane sul sinistro, kick ball cross di destra, kick ball cross, poi in destra, step in avanti. Col sinistro, poi touch, poi hook back, shuffle back di sinistro, shuffle back, rock back di destra, ruotando il tacco sinistro verso l'esterno. Recover sul sinistro, full turn, che gira in verso sinistra, quindi giro mezzo, giro mezzo, stomp destro e stomp sinistro. Qui la coreografia è finita e ricomincia sul secondo numero. Vediamola con il conteggio. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il tagger è dopo il secondo numero. Vediamo il tagger con i passi. Chassé a destra, chassé, rock back di sinistro, rock, ricover, chassé a sinistra, chassé, rock back di destro, rock, ricover, pivot sinistro, quindi passo avanti di destra, giro di mezzo verso sinistra, passo avanti di destra, pausa, pivot destro, quindi passo avanti di sinistro, Giro di mezzo verso destra, passo avanti di sinistro, stop up destro. Qua, ripartiamo sul muro. Facciamo il tagger con il conteggio. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il finale Dopo aver fatto lo stride, slide, stomp, 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 abbiamo lo slap con la mano destra e il tacco destro, slap, stomp, cross del sinistro davanti al destro e unwind di tre quarti. Questo è il finale. Ok, adesso lo vediamo con la musica. Ok, adesso lo vediamo con la musica. Ok, adesso lo vediamo con la musica. Ok. 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 Grazie a tutti.